e saluti sono stai e stai in questo nuovo video dunque un po discutere di una questione che ho deciso e voglio parlarne anche con voi dato che soprattutto che per chi segue il video gameplay sul mio canale vi invito a nanti e comunque anche se non seguite i video dei gameplay vi consiglio di andare a vedere che sono molto belli e ho deciso che wild rift ronin shutter pixel dungeon non non riporterò più il suo canale o merito non si non riporterò più magari un giorno gli riporterò magari sarà un momento che vorrò raggiocarci però per momento la risposta è no non ci sanno saranno più video su questi giochi video giochi adesso vi dico anche perché perché non non mi piacciono mi divertono non mi prendono e quindi non ci voglio più giocare e neanche perché se un video che mi avevo scaricato volevo provarmi con voi poi tutto a canale un po scalco un po di videogiochi li provo con voi poi se non mi piacciono non li porto più perché secondo me anche sui fatti si vedono se non mi piace una cosa se non mi piace una cosa si vede se non mi piace una cosa si vede e e poi i risultati si vedono la qualità dei video scarsa eccetera e quindi ho deciso di non portarlo più non portare più questi giochi qua ma magari un giorno avrò la pari non diceva di giocarci però non ci giocherò più invece videogiochi come minecraft invece dr survival watch bianca che una scena un po cucurata forse allora intanto qua ci viene anche un po bianca che ne parte un po il discorso e dunque volevo dire che negli area survival e nfs sono giochi che mi stanno prendendo mi stanno piacendo anche molto quindi mi porto un po più reti e poi al posto della posto dei giochi che non ce la sono più ci saranno altri giochi che magari proverò magari vedrò che non piacciono il pisellino magari non li proverò magari mi piaceranno e li poterò quotidianamente o comunque non mi piaceranno e non li poterò e poi a un certo punto mi fermerò e poi cambierà con un altro gioco volevo dirlo a posto perché mi serve a giusto presto soprattutto per chi stava seguendo i vari video e non li vedrà più e dunque ragazzi io vi saluto mi invito a domani che c'era un nuovo gameplay su un altro gioco molto particolare vi invito ad andarlo a vedere è un gioco molto conosciuto mi dico questo molto popolare voglio provare a portare a riportare forse grazie dire che video che è finito spero che video vi sia piaciuto questo video è un po metto un po di un video un po di servizio per dirvi un po questa news mi sembrava giusto fare il video e noi ci vediamo in questo video e bye bye grazie a tutti grazie a tutti